Buongiorno a tutti da Andrea Cartotto, quest'oggi una pillola di software libero per la scuola. Desidero condividere con voi uno dei miei cavalli di battaglia dei corsi in presenza, cioè come utilizzare il software libero open source ed in questo caso LibreOffice e LibreOffice Draw disegno nella scuola per creare ad esempio con facilità estrema mappe e schemi. Io clicco sulla mia icona di LibreOffice disegno draw, giunto alla sua versione 6.4, ricordo che si scarica gratuitamente e legalmente da it.libreoffice.org, soluzione assolutamente analoga al conosciuto Microsoft Office software proprietario. Allora, chi di voi è già abituato ad lavorare con la LIM, in maniera diciamo assidua, noterà una notevole somiglianza di LibreOffice draw ad alcuni tra i comuni software autore per la LIM. Ed infatti io nelle mie formazioni ai docenti e dunque ai colleghi, nonché ai ragazzi, parlo proprio di LibreOffice draw come un software autore per la LIM de facto, cioè nella realtà. Osservate un attimino, barra degli strumenti a sinistra, comoda e pronta all'uso, barra degli strumenti naturalmente che già conosciamo perché la ritroviamo in numerosissimi contesti anche in altri programmi e barra dei menu. Foglio con layout e dunque con impaginazione verticale, vi ho parlato di una mappa e di uno schema. Ad esempio, ieri abbiamo celebrato per il nostro paese il 25 aprile, una data piuttosto importante e significativa. Vediamo come si potrebbe trasporre all'interno di una mappa. Allora, un bel titolo chiaro ed evidente. Clicco sul pulsante in alto a forma di F, la font work. Lavoro con il testo, font più work. Io vado a cliccare, scelgo una tipologia di scritta che mi sembra insomma adeguata, do un clic sul mio ok, sposto o con le quattro frecce della tastiera o con il tasto sinistro premuto la mia scritta font work posizionandola nell'area desiderata del foglio, due clic con il tasto sinistro, due clic tasto sinistro all'interno del foglio e vado a cancellare lettera per lettera piano piano la parola font work immediatamente scrivendo il titolo desiderato. Ad esempio, storia d'Italia. Un clic a vuoto, dunque al di fuori, confermerà il nostro titolo. Attenzione, con un clic mediante le maniglie di ridimensionamento, dunque i quadratini che osserviamo, io posso con un tasto sinistro premuto andare ulteriormente a dilatare e a perfezionare la mia scritta qualora io lo ritenga opportuno. In questo caso la faccio scorrere come su un binario comodamente con le quattro frecce della tastiera. Vi mostro anche che facendo un clic in alto nella barra dei menu su visualizza e andando poi a posizionare il puntatore su griglia e linee guida. Cliccando su mostra griglia io ho anche un bel orientamento quadrettato che mi consente di lavorare. Vi ho parlato però di mappe schemi con facilità, dunque tolta la titolazione guardiamo come è facile lavorare. Ad esempio io posso prendere una forma rettangolare, un clic su rettangolo, tasto sinistro premuto, trascino per avere la mia forma ed in questo caso con due clic all'interno del rettangolo cursore lampeggiante e già posso digitare. Per cui potrei tranquillamente andare in questo caso a digitare, ad esempio, il nazifascismo, ponendo poi di volerlo ulteriormente approfondire. Se voglio formattare, cioè abbellire il testo che ho appena digitato, non devo fare altro che selezionarlo con il tasto sinistro premuto e agire al bisogno per rapidità tramite la barra degli strumenti, per esempio, con qualche clic sulla A vado ad aumentare velocemente la dimensione del carattere. Mi serve un connettore, dunque una freccia che leghi gli elementi. Attenzione vi ho parlato di mappe e schemi. Qui stiamo parlando di mappe concettuali perché la mappa mentale effettivamente si può realizzare con ulteriori soluzioni, alcune le trovate sempre qui sul mio canale YouTube. A questo punto guardiamo linee e frecce. Se addirittura io clicco sulla tendina accanto a linee e frecce, posso variare le tipologie di connettori. Linea con freccia terminale, linea con cerchio freccia, quindi tantissime possibilità. Un clic, tasto sinistro premuto, vado a tracciare la mia freccia, lascio il tasto sinistro premuto, connettore. Assolutamente è possibile fare un clic e con le frecce della tastiera, piuttosto che con il tasto sinistro del mouse premuto sul quadratino perfezionare ancora l'inserimento. Però volentieri con questo videocorso il mio desiderio è quello di dare uno strumento comodo e pratico anche a chi possa avere competenze digitali magari meno elevate. È uno strumento veramente pronto all'uso LibreOffice Draw e non richiede collegamento ad internet perché si tratta di un programma che abbiamo installato sul nostro computer. Ora vado a prendere una forma ellittica ad esempio, ellisse, un clic, stesso meccanismo di prima, tasto sinistro premuto e poi mediante le maniglie di ridimensionamento vado ancora a perfezionare la mia ellisse, due clic, tasto sinistro e poi legando gli elementi ovviamente poi questo è un argomento per il quale pensiamo noi ecco ad uno schema opportuno però ho nominato prima il 25 aprile dunque 25 aprile. Liberazione può essere occasione di un commento, di un confronto con i ragazzi e così via. Naturalmente non siamo obbligati a mantenere il colore azzurro che è quello predefinito che LibreOffice Draw ci offre però con un clic semplicissimo, io mi sposto completamente a sinistra, secchiello, un clic sulla tendina accanto al secchiello e vado a variare con un clic il colore di riempimento dell'elemento che ho precedentemente cliccato. Quindi vedete che in realtà uno dei punti di forza di LibreOffice Draw oltre ad essere estremamente inclusivo perché tutti se lo possono permettere dunque tutte le famiglie possono scaricare LibreOffice sul computer personale dell'abitazione, LibreOffice ha questa immediatezza d'uso e addirittura vi mostro che con un clic se io mi recassi in questo momento nella barra degli strumenti in alto e andassi a verificare un pulsante a forma di foglio bianco con l'angolo ripiegato e una astilizzata rossa, simbolo un po' convenzionale del pdf, con un clic, non file salva con nome ma con un clic, clic su esporta, voilà, assegno il nome che io desidero, ad esempio cliccando su download al mio lavoro, clic, vedete che il formato pdf è già presente, scrivo dunque schema liberazione Italia, un clic su salva ed il mio lavoro è terminato. Qualora io voglia salvare questo mio schema per poterlo elaborare ancora in futuro, allora vale sempre la procedura consueta di salvataggio con un clic su file, un clic su salva con nome e a questo punto possiamo osservare, vado sempre a selezionare il mio download a sinistra, che il formato esatto dello schema che ho realizzato con LibreOffice Draw è ODG, Open Document Graphic. La famiglia dei formati che LibreOffice utilizza, altro aspetto importante è la famiglia ODF, Open Document Format. Questo è un formato standard. Ciò significa, ma è ancora più evidente nella videoscrittura, che se io da che scrivo, da che io cominci a scrivere sino al momento del salvataggio e della condivisione, porto avanti un documento della famiglia ODF, in quel caso sarebbe un ODT, documento di testo, io conserverei praticamente l'integrità e il documento proprio così come è stato voluto dall'autore e ne vado a preservare la durata nel tempo. Vi ripeto, qui siamo di fronte ad un disegno, cioè uno schema, il formato in questo caso è ODG, dove la G sta per Graphic. Il formato ODG naturalmente è bene, se ci voglio lavorare ancora, che venga riaperto poi da LibreOffice, ma abbiamo visto che con un clic su Esporta PDF ho generato un documento trasferibile, condivisibile con gli alunni di ogni ordine grado con una estrema facilità. Un caro saluto da Andrea Cartotto e buon lavoro anche con il software libero per la nostra scuola.